buonasera ragazzi e benvenuti qui ai re di napoli il ristorante via parteno per numero 9 vi aspettiamo tutti siamo in attesa oggi è un sabato sera che la clientela di vi ringraziamento va anche al nostro carissimo luigi che ci sta da cicerone ok e che va un po per i tavoli e vi fa vedere un po la panoramica del nostro ristorante un attimino solo per di attesa per farvi vedere un attimo nostro chef qui alla mia sinistra gianni vino poi venire un attimino di qui verso di me gianni viene un attimino verso di me eccolo qui se volete venire dai re di napoli per assaggiare la nostra nerano che è una è un piatto tipico campano soprattutto napoletano come anche la genovese come anche qualcosa di più sofisticato più diverso e più moderno come lo spaghetto del re c'è gianni che vi vi alletterà le ugole ok eccolo qua gianni mettiamo arrivederci grazie a voi la ristorante a chi era aperto confermiamo l'apertura del ristorante che alle mezzogiorno tutti i giorni 365 giorni all'anno e la chiusura e zanotte invece abbiamo l'apertura diciamo i tavoli al di fuori dove mettiamo persone che vogliono stare vicino agli hotel vogliono stare fuori da tutto sicuramente è molto molto bello ciao peppe buonasera buonasera ciao 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 eccoci qua un'altra volta un'altra volta abbiamo qui peppe che uno dei pietre miliardi del dei re di napoli nella serie 12 proprio soltanto per dire aspettiamo tutti qui ai re di napoli e per il servizio troverete peppe venite da noi e non vi preoccupate vi faremo trovare una buona cucina come ci hanno hanno mi hanno detto prima vi facciamo c'è un po' sembrani ciorgi e aspettiamo in tanti pesce fresco carne ottima di ottima scelta da noi si trova di tutto un po le pizze le fate anche sì una pizza che mi puoi consigliare peppe ti consigliamo una pizza speciale quella la la re di napoli la nostra famosa mezza margherita e mezza ripiena allora ragazzi ve la consiglio questo tipo di pizza quando venite molto buona molto venduta molto saporita una una pizza nuova vogliamo dire quella lì con con i piselli crema di piselli e pancetta e provola buona e per buon gustare eh per buon gustare quelle sono per poche persone ok poi non parliamo del plesce fresco che trovate qui che posso dire dei crudi di mare crudi di mare come no cambri rossi cambri quelli la di manzaro e molto troppo forse un po un po di tempo un po di esperienza l'abbiamo ti dico e posso essere posso dire che su questo lungomare di napoli non perché ci lavoriamo assolutamente no dai prodotti che tutti eh buoni veramente buoni veramente buoni facciamo una cellida una buona qualità si facciamo una cellida channel dai dai produttori e cerchiamo di prendere il meglio per i nostri clienti sono tutti e ringraziamo il nostro caro gigi per gli amici Gigi no? Gigi come mi chiamo? su youtube lui si chiama eh non lo so questo dimmi 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 lo sta dicendo ce lo dice e noi lo ribadiamo oh ok Tecno Gigi Tecno Gigi vai 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 un abbraccio tanto forte 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 a Tecno Gigi attenzione ci trovate qua ci trovate qui con tutto 24 su 24 un bacione alla napoletana vai Ciao